A sta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer dal distopico futuro ed eccoci oggi in una nuova reazione e analisi al nuovo character trailer di Dragon Ball Spark in Zero. Bene, ieri 6 settembre è stato rilasciato l'ennesimo character trailer di Spark in Zero, stavolta appunto riguardante la saga di Majin Buu. Di certo non è stata una sorpresa, ce l'aspettavamo dato che i trailer precedenti erano stati quelli riguardo la saga dei Saiyan e di Freezer e poi quello sulla saga di Selle e degli Androidi e quindi era palese che sarebbe uscito quest'altro trailer. Me l'aspettavo totalmente quindi nessuna sorpresa e immagino che adesso finiti i trailer sulle varie saghe di Dragon Ball Zeta possano essere rilasciati degli altri trailer riguardanti le saghe ad esempio di Dragon Ball Super. Dai, sarebbe piuttosto plausibile oppure meno probabile ma non impossibile potrebbero essere rilasciati dei trailer riguardanti i personaggi di Dragon Ball GT o della prima serie di Dragon Ball o ad esempio su Dragon Ball Diamond dato che sappiamo che questa serie anime uscirà l'11 ottobre. Quindi magari dato che manca pochissimo all'uscita sia di Spark in Zero che di Dragon Ball Diamond potrebbe essere rilasciato almeno un trailer o qualche trailer riguardante Dragon Ball Diamond in cui vengono appunto presentati i vari personaggi sia i buoni che i villain, i nuovi villain che vedremo in questa serie anime. Quindi non escludo nessuna possibilità, non so se farebbero in tempo ad esempio a far vedere tutte le varie saghe, tutti i vari personaggi delle varie saghe di Dragon Ball Super in questo mese di settembre fino ad ottobre a meno che non sparano un sacco di trailer uno dietro l'altro fino proprio sotto la data di uscita del gioco. Quindi non lo so, non mi aspetto una roba del genere, non so effettivamente quali altri trailer potranno uscire ma vedremo un po'. Comunque torniamo a noi, allora trailer della saga Tima Jin Buu della durata di più di tre minuti quindi bello corposo, bello zeppo di roba, io non l'ho ancora visto quindi non mi sono spoilerato nulla assolutamente, l'ho ottenuto come dico sempre, bello caldo per voi il trailer. E appunto ragazzi parlando di aspettative che cosa mi posso mai aspettare? A giudicare dai trailer precedenti posso dire che mi immagino tutte le varie forme di Majin Buu senza saltarne neanche una, poi mi immagino ad esempio tutti i vari guerrieri Z con le loro forme che hanno affrontato appunto queste varie forme di Majin Buu giustamente come hanno fatto anche nei trailer precedenti. Mi aspetto magari anche Babidi, dato che in Tenka C3 si poteva utilizzare tranquillamente e aveva degli attacchi piuttosto divertenti con i suoi sottoposti che andavano ad attaccare e aveva anche la sfera di cristallo con cui colpiva, roba assurda, quindi mi aspetto che lo abbiano messo anche in questo gioco e magari, non so, non voglio esagerare, potrebbero aver aggiunto tutti i vari sottoposti di Babidi. Perché dico questo? Perché in passato in un trailer abbiamo già visto che c'era Spopovich, quindi a sto punto mi immagino che ci siano Yamo e Spopovich magari come coppia o magari come personaggi singoli separati, magari ci potrebbe essere Pui Pui, Iacon, Darbula c'è per forza perché lo abbiamo già visto appunto nei trailer precedenti, quindi già due sottoposti ci sono, mi aspetto almeno che ci sia Babidi e magari vari altri sottoposti, quindi molto interessante. Chissà se ci mettono anche i soldati Majin, appunto i soldati di quella razza aliena controllati da Babidi, sarebbe davvero fighissimo e molto molto completo a livelli estremi. C'è da dire però che in passato abbiamo già visto vari personaggi della saga di Majin Buu, tipo Majin Vegeta nei primi trailer, Goku Super Saiyan 3, Majin Buu Grasso, Super Buu e Ultimate Gohan ultimamente. Abbiamo visto Spopovich, Darbula, Videl, Goten e Trunks eccetera eccetera, quindi non so effettivamente quanti personaggi ci verranno effettivamente presentati oggi. Ne vedremo tantissimi, penso tutti quanti quelli della saga di Majin Buu, ma presentati saranno molti meno perché molti li abbiamo già visti, così funziona in questi trailer e penso che poi si sbloccheranno alla fine. Non sono solamente gli esagoni con i visi dei personaggi solamente di quelli presentati in questo trailer e non di tutti quelli che vedremo in questo trailer perché vi ho detto molti sono stati già man mano presentati fin dai primi trailer. A questo punto non credo ci sia altro da dire, mi aspetto un bel trailer corposo dato che è bello lungo, pieno zeppo di roba, pieno d'azione, bello carico, cazzuto, mi aspetto insomma bella roba e non un trailer scocciante. Sperando che i personaggi non siano sempre buggati, compenetrati, con problemi estetici, con cose che non vanno perché è un po' brutto così ragazzi, spero che comunque a ridosso quasi della data di uscita, manca un mese, manca pochissimo, siamo agli sgoccioli, abbiano risolto tutti quelli che sono i vari problemi e le robe che non piacciono alla community. Tipo ad esempio una cosa che sta rimanendo fino alla fine ovvero gli attacchi energetici molto molto stretti, molto molto piccoli, molto piccini che fanno poco devasto come energia intendo e anche il fisico di vari personaggi che sono praticamente sempre slim, sempre molto più piccoli, molto più magri e poco imponente rispetto alla controparte dell'anime e del manga. Ok? Quindi queste cose vanno un po' risolte, spero che non se le trascinino fino all'uscita del gioco perché poi giocare al gioco e vedere ancora questi problemi visti dal trailer sarebbe un po' deludente. Quindi speriamo bene ragazzi e godiamoci il tutto. Mi metto i cuffioni e cominciamo! Ed eccoci qua prontissimi a guardare questo trailer che si chiama Dragon Ball Sparking Zero Majin Buu Saga Character Trailer. Quindi se volete trovare questo trailer o scrivete questo titolo su YouTube o lo cercate sul canale YouTube americano o europeo di Bandai Namco oppure potete tranquillamente trovare il link qui sotto nella descrizione. Ve lo lascio così se volete guardare il trailer magari ve lo siete perso, chi lo sa appunto lo recuperate. Dai sono bello carico quindi! Let's go! E si comincia! Unreal Engine come sempre. Attenzione ragazzi, occhi aperti. Budokai Tenkachi Returns. Great Saiyaman subito, Babidi, Majin Buu Grigio ho visto, Majin Buu Grasso, tutte le varie forme e Kid Buu quindi tanta roba. Ok abbiamo Goku che arriva al torneo mondiale nella saga di Majin Buu, scene della storia quando incontra Goten eccetera eccetera. Il torneo mondiale. Great Saiyaman ci viene presentato questo qui con la bandana, molto bene. Ok quindi vado ad attaccare Spopovic, ma Yamu dov'è? Ok ragazzi Super Saiyan molto bene, Yamu appare tipo come altro personaggio con un attacco speciale. Ok Babidi ragazzi, eccolo qua, con il suo strumento in mano. C'è Pui Pui, bellissimo come in Tenkachi 3. C'è Darbula e Yakon. Gohan adulto contro Darbula, lo va a stramazzare al suolo, bellissimo. Che fa Babidi? Controlla Majin Vegeta, scene della storia immagino. Quindi ok contro Goku Super Saiyan 2 ragazzi, mamma mia com'è fluido il tutto. Gohan con questo outfit che adoro, ve lo ricordate? Majin Buu Grasso che va a spazzare via Gohan, me lo ricordo. Ok quindi Majin Buu Grasso assodato che c'è ovviamente. Lancia il grasso a Majin Vegeta, mamma mia. Ok molto bene. L'esplosione finale vero? Vediamo un po'. Bellissimo ragazzi com'è fatto, ok? Mi piace, mi piace quello che vedo. L'esplosione finale con tutta la cupola nucleare, gigantesca, anche se mi sembra piuttosto piccolo in questo caso. Goku Super Saiyan 3, insomma ragazzi, non è che mi piaccia tanto il viso di Goku Super Saiyan 3, anche i capelli. Quindi ovviamente c'è questo scontro epico tra Goku Super Saiyan 3 e Majin Buu Grasso. Che succede? Ok, la faccia incazzata di Majin Buu ragazzi, roba assurda. C'è anche Grey Buu, Majin Buu Evil viene chiamato. Benissimo. Insomma, realizzato, il viso era un po' strano. Ok, Super Buu, già lo sapevamo, viene presentato in questo trailer precisamente. Ok, c'era anche già in quello della Gamescom. Era stato fatto vedere proprio per due secondi. Ultimate Gohan, ragazzi, Gotenks ce l'ha già. Kamehameha potentissima, Super Buu appunto che fa la sua maxi esplosione assurda. Quando impazzisce. Ok, quindi assorbe Gotenks e diventa Super Buu Gotenks assorbito. Contro Gohan Ultimate. Ok, Super Buu, Gohan assorbito. Ci doveva essere anche questo. Ok, e quindi? Che succede? Si ferma tutto, Goku fa la fusione. Sì ragazzi, me l'aspettavo. Con Vegeta. Quindi, ovviamente Veget che si trasforma in Super Saiyan. Non credo che ci venga presentato perché lo abbiamo già visto parecchie volte a Veget. Kid Buu, ragazzi, eccolo qua. Ci viene presentato. Pazzarello lui. Scatenato con la Kamehameha. Ok. Qua sarà duro, ragazzi, sconfiggere Kid Buu in sto gioco. Mamma mia, guardate le mosse che fa. Si allunga. Fa un sacco di robe. Mr. Satan. Goku che lancia la Genkidama con il Super Saiyan. Che Goku fine dovrebbe essere. Goku di fine Z. E ci siamo ragazzi. Benissimo. Personaggi presentati benissimo. Si sbloccano tutti i vari esagoni qui. Sono molto stupito che abbiano messo Babidi e Majin Buu Grigio, soprattutto. E non credo abbiano messo personaggi come Yacon o Pui Pui. Credo che fossero tipo introdotti nelle mosse di Babidi. Fantastico. Strepitoso trailer. Mi è piaciuto un sacco. Bello carico, proprio come lo immaginavo. Quindi ci hanno presentato vari personaggi della saga di Majin Buu. Sia alle varie forme di Majin Buu. Sia ai villain precedenti alla nascita di Majin Buu. Quindi Babidi, quindi anche Darbula, abbiamo visto anche Spopovic. Abbiamo visto anche Pui Pui. E Yacon non l'abbiamo visto. Ma quell'attacco con Pui Pui che lanciava. Quell'attacco dalla mano mi sembrava essere una roba già presente in Tenka C3. Me la ricordo benissimo perché ci ho giocato parecchio. Quindi mi ricordo che Babidi poteva far comparire. Far arrivare insomma Pui Pui e far lanciare quell'attacco. Quindi credo che Pui Pui e Yacon che non abbiamo visto. siano dei personaggi introdotti dentro le mosse speciali o supreme di Babidi. Quindi è un po' una delusione. Magari me le aspettavo utilizzabili quei personaggi. Ma mi sa che non sarà così. Per quanto riguarda Spopovic. Credo che sia lui il personaggio utilizzabile. Dato che lo abbiamo già visto. C'è stato già presentato in passato in un altro trailer. In cui c'era anche Darbula. Probabilmente quella mossa che abbiamo visto è la mossa suprema di Spopovic in cui appare anche Yamo. Un po' come succede anche con Babidi che fa comparire i suoi sottoposti come attacchi speciali. Succedeva anche in Tenka C3. Ecco in questo caso anche Spopovic utilizza lo stesso tipo di mossa usando il suo compagno. Ecco in questo caso Yamo era un suo compagno sempre sottoposto di Babidi. Quindi interessante. Abbiamo visto ovviamente tutte le varie forme di Majin Buu. Quindi il gioco è assolutamente completo. Majin Buu grasso lo abbiamo visto già mille volte. Majin Buu grigio è assolutamente la novità. Se non lo avessero messo sarebbe stata una delusione per me ragazzi. Perché nella saga di Majin Buu quel Majin Buu è uno dei miei preferiti. Ok? Perché è uno particolare no? È grigio, è magro, non trasforma i nemici in caramelli o roba del genere. Cioè è un po' particolare, è un po' a sé stante quel Majin Buu ecco. Non è neanche una variante di Kid Buu. È proprio diverso da tutti gli altri Majin. Perché conserva comunque il mantello e gli abiti del Majin Buu grasso. Però è totalmente magro, totalmente particolare. E ha delle mosse che solo lui fa. Quindi molto bene. Sono contentissimo che l'abbiano aggiunto. E sia chiaro. Stavolta è stato presentato per bene Super Buu. Anche se lo avevamo già visto molto velocemente con un solo attacco speciale. Appunto nello scorso trailer, quello del Gamescom 2024. E appunto abbiamo visto anche tutte le altre forme. Quindi Super Buu con Junior e Gotenks assorbito. E anche poi Super Buu con Gohan assorbito. Quindi rispettivamente Buu-Tenks e Buhan. Ovviamente ci dovevano essere per forza quella è la base appunto dei personaggi della saga di Majin Buu. E ovviamente per finire in bellezza il caro Kid Buu davvero scatenatissimo. Che secondo me sarà il più difficile da battere. Perché sarà appunto scatenato. Si muoverà sempre. Farà sempre attacchi incredibili. Insomma assolutamente dovremo stare tanto attenti quando lo andremo a combattere nel gioco. Perché sarà il più pericoloso. Il più devastante. E quello appunto che si muoverà di più. Ci farà un sacco di attacchi eccetera eccetera. Lo sappiamo. Anche nei vecchi giochi di Dragon Ball. Il Budokite in calci era così. E quindi non credo che questo gioco sarà da meno. Per quanto riguarda i buoni. C'è stato presentato subito fin dall'inizio appunto Great Saiyan Man con la bandana. Dovrebbe esserci anche la skin con il casco. E appunto anche la sua trasformazione in Super Saiyan contro Yamo e Spopovich. Proprio come nella storia. Infatti ci hanno fatto vedere un sacco di scene della storia principale. Poi ovviamente ci sarà anche Vegeta Super Saiyan 2 regolare. Quindi non Majin. Un'altra skin potrebbe essere qualcosa del genere. Abbiamo visto Goku Super Saiyan 3 che non tanto mi convince ancora. Ha sempre quell'estetica un po' strana del viso. Con i capelli un po' strani diciamo fatti male e poco sparati verso l'alto. Ok sembravano tipo quasi pettinati verso dietro. Non lo so non mi convince più di tanto Goku Super Saiyan 3. Ma comunque sappiamo che ci sarà in questa saga e farà numerose battaglie. Abbiamo potuto vedere il caro Gotenks Super Saiyan 3 che c'era stato già fatto vedere presentato. Se non sbaglio nel trailer delle fusioni. Sì mi ricordo bene. Poi abbiamo visto anche il caro Gohan Ultimate o Gohan Supremo come vogliamo chiamarlo. E' stato presentato ufficialmente per bene stavolta con più calma, con più scene rispetto all'altra volta quando ce l'avevano fatto vedere frettolosamente per pochissimo nello scorso trailer. Quello del Gamescom 2024. Abbiamo rivisto il caro Vegeta forma base e Super Saiyan che avevamo visto già nel trailer delle fusioni. Che in questo caso affronterà nella storia come sappiamo il caro Buhan davvero potentissimo. E poi alla fine sul pianeta dei Kaioshin abbiamo visto comunque Vegeta Super Saiyan 2, Goku Super Saiyan 3 che andranno ad affrontare il caro Kid Buu. E infine il caro Goku di Fine Z che non so se ci è stato presentato o meno che comunque stava lanciando la sfera Genkidama. Diciamo che quel Goku lo abbiamo già visto da qualche parte in questi precedenti trailer e appunto non dovrebbe essere una cosa nuova. Non ci è stato presentato effettivamente comunque. Era il Goku di Fine Z classico che lancia questa benedetta enorme Genkidama che va a terminare poi Kid Buu. Quindi questi sono un po' tutti i vari personaggi che ci hanno mostrato e devo dire che sono rimasto sorpreso per Babidi. Soprattutto Babidi però deluso per il fatto che non ci siano quegli altri personaggi come Pui Pui, Yacon eccetera eccetera e altri sottoposti magari. E sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che ci abbiano messo effettivamente senza saltarla la forma di Majin Buu quella lì grigia Evil Buu che appunto non mi aspettavo per forza avrebbero messo. Magari non essendo troppo importante apparendo per poco tempo magari avrebbero potuto anche non metterla però non lo hanno fatto. Ce l'hanno messa quindi si gode. Si gode ragazzi io adoro quella forma di Majin Buu è una delle mie preferite quindi alla fine è stata una bella sorpresa che ce l'abbiano messo. Hanno messo tutte le forme di Majin Buu in questa maniera. Bene adesso che abbiamo visto assieme questo trailer e vi ho detto un po' le mie prime impressioni, i miei pensieri appunto riguardo ciò che abbiamo visto è il momento di passare all'analisi. Perfetto partiamo da qui allora abbiamo la scena della storia principale in cui Goku arriva qui al torneo mondiale e sorprende tutti quanti. La cosa bellissima che si nota fin da subito è che c'è una musica di sottofondo fantastica credo dell'anime infatti è una musica che si sente ovviamente nella saga di Majin Buu e c'era anche in Dragon Ball Z Kakarot me lo ricordo tranquillamente. Ovviamente non cantata ma solamente la musica diciamo il tema e in questo caso ragazzi mette una carica pazzesca quindi fantastico quindi vediamo qui abbiamo Goku che compare. Ok la cosa che non mi piace più di tanto è che questa parte almeno del trailer sembra fatta con una scarsa qualità una qualità giusto un po' più bassa del normale ok rispetto a tutto quello che vediamo dopo. Almeno questa è l'impressione che ha dato a me ad esempio adesso quando vedremo il viso di Goku si noterà un po' che il tutto è non proprio definito al massimo come se la qualità fosse un po' bassa non ho capito il perché. Comunque qui vediamo Vegeta con il suo outfit dalla saga di Majin Buu e Trunks bambino con i capelli devo dire che hanno una bella forma e il colore è praticamente quello lì solo che c'è un'espressione un po' troppo seria per quello che sta accadendo non ho capito perché. Ok quindi vediamo ok vedete qui sembra come se la qualità non fosse proprio al massimo ok magari l'avranno fatto in fretta e furia sto trailer e non si sono accorti di sta cosa però guardatelo bene ragazzi sembra come se fosse giusto leggermente pixeloso rispetto al solito. Eppure la qualità del trailer è messa al massimo quindi non mi sto sbagliando io proprio che queste prime scene sembrano essere un po' giusto un po' sgranate ecco forse potrebbe essere perché siamo troppo vicini ai visi dei personaggi potrebbe essere. Quindi qui abbiamo Goten felicissimo che incontra suo padre dovrebbe essere quella scena lì vedete qui si vede un po' che il tutto è sgranato ad esempio sugli occhi disegni degli occhi e i disegni qui sotto gli occhi sono un po' sgranati ecco non sono proprio perfetti strano nei vecchi trailer non succedeva ecco perché è strano e l'ho notato adesso subitissimo. Quindi vediamo ok quindi tutta la scena del torneo mondiale qui ci vengono presentati tutti i vari personaggi il primo è ovviamente il caro Great Saiyan Man con la sua posa vedete ragazzi farà tutta la posa credo che quando lo sceglieremo come personaggio farà tutta la sua intro con tutto il balletto eccetera eccetera. Credo che piuttosto la gente i giocatori potrebbero utilizzare un Gohan Ultimate o un Gohan normale Super Saiyan Super Saiyan 2 rispetto a questo qui però l'importante che c'è c'è la completezza nel gioco e quindi c'è anche questo personaggio. Quindi ok quindi Great Saiyan Man con la bandana poi ci dovrebbe essere anche quello lì con il casco e dovrebbero essere skin alternative quindi ci sarà quello con il casco che è quello principale poi questo è quello secondario con la bandana e gli occhiali da sole. Quindi ok vediamo lui parte subitissimo la musica si chiama We Got The Power e dice che questa soundtrack purtroppo non è inclusa nel gioco è fantastica sta soundtrack ragazzi ovviamente già la conoscevo peccato che non ci sia nel gioco poi mai dire mai magari potrebbero mettere delle soundtrack dei temi che si possono cambiare nella missione o nel combattimento e magari ci sarà questa poi magari ci dicono così e poi magari la mettono chi lo sa. Insomma lui qui combatte contro Spopovic lo va subito a malmenare Spopovic sempre grosso forzuto guardatelo un po' bello muscoloso Gohan ci va pesantissimo con tanti attacchi vediamo che si trasforma sempre con questo outfit in Super Saiyan però sembra essere piuttosto magro ragazzi. Gohan comunque all'epoca in quella saga era piuttosto muscoloso no? Era bello pompato dai diciamolo quindi è strano che in questo gioco tutti i personaggi siano slim e secondo me sentite cosa vi dico questa roba se la trascineranno fino all'uscita del gioco e la lasceranno così. Anche se la community si sta lamentando tantissimo sia degli attacchi poco larghi molto molto stretti molto piccini e anche i fisici dei vari personaggi sono piccini ok? Tutto molto più slim in questo gioco non ho capito perché comunque sia vediamo lui si trasforma e qui ragazzi mamma mia che figo qui la qualità è altissima. Mi piacciono tantissimo queste luci e ombre su Gohan sembra davvero perfetto i capelli sembrano essere quelli giusti il viso insomma non mi ricorda affatto l'anime ma il fatto è che ho notato che Goku e Gohan condividono lo stesso tipo di viso magari cambia giusto qualcosina ma per quanto riguarda Goku e appunto Gohan adulto hanno tipo lo stesso viso poi vedrete rendetevi conto questo dico quindi questo viso non è quello del Gohan che conosciamo dall'anime magari gli somiglia ma non è uguale. Vediamo che succede qui ragazzi parte l'attacco probabilmente supremo di Spopovic mi aspetterei più che compare Yamu assieme a Spopovic nell'attacco supremo piuttosto che nell'attacco speciale ok? Vediamo che c'è tutto il cielo oscurato che potrebbe essere a causa della trasformazione di Gohan ad esempio che fa comunque cambiare il tempo oppure perché sta per accadere la suprema di Spopovic e Yamu. Yamu non c'era poco prima avete visto che è comparso e all'improvviso poi fanno a fare questa mossa suprema che se non sbaglio era la stessa di Tenkai C3 perché mi ricordo che c'era Spopovic e anche in Tenkai C3 non c'era Yamu e compariva soltanto per fare la mossa con Spopovic. Possiamo dire tranquillamente che in questo caso siamo sullo stesso livello di Tenkai C3 quindi non ho da lamentarmi. Certo sarebbe stato più bello avere ogni singolo personaggio utilizzabile non che compare solamente in un attacco speciale o supremo però così è ce lo facciamo piacere insomma. Per quanto riguarda i fisici dei personaggi Spopovic bello pompato con tutte le venuze con tutti i dettagli mi piace tantissimo e Yamu giustamente essendo più piccoletto nonostante è molto simile a Spopovic era molto più piccoletto molto meno pompato ha la muscolatura giusta quindi un po' più grossa addirittura di quella di Gohan e non dovrebbe essere così. Quindi vediamo come fanno sta Suprema Spopovic lo becca da dietro vedete ragazzi qui il dettaglio è pazzesco non noto robe strane appunto che ne so con penetrazioni di qualsiasi tipo no ad esempio Spopovic è fatto benissimo per quanto riguarda anche i dettagli eccetera eccetera mi piace un sacco anche il fatto che abbia questi segni della lotta sul viso no in vari punti molto bello. Mentre Yamu gli ficca nel fianco di Gohan ce lo ricordiamo benissimo questo strumento questo dispositivo che serve per assorbire l'energia e portarla poi da Babidi ce lo ricordiamo benissimo quindi il tutto sembra fatto benissimo non noto robe strane anche Yamu fatto molto bene ok vediamo quindi si prendono le energie si passa a Babidi che ha lo stesso strumento in mano quindi dovrebbe essere una scena della storia principale oppure semplicemente una battaglia comunque Babidi piccoletto ma fatto davvero benissimo. Mi piace mi piace lo stile con tutti i peletti in testa come le mosche fantastico non vedo l'ora poi di utilizzare anche Babidi come personaggio giocabile quindi vediamo un attimino ci viene presentato si Babidi scritto così ok non noto robe strane sul suo corpo è fatto in modo perfetto proprio come nell'anime me lo ricordo esattamente così quindi non ho nulla da dire vediamo ok ecco che subito passiamo a Pui Pui che non è un personaggio che ci viene presentato quindi questo vuol dire che è un personaggio che compare soltanto quando si fa un determinato attacco speciale o supremo e a giudicare dal fatto che non ci sono i nuvoloni non è cambiato il tempo non sta succedendo una suprema da quello che sembra credo che sia un attacco speciale proprio come in Tenkachi 3 infatti mi ricordo che Babidi utilizzava per combattere corpo a corpo la sfera o degli attacchi comunque con la sfera e poi come attacchi speciali aveva uno con Pui Pui e uno con Yacon e poi non mi ricordo il resto e quindi penso che abbiano lasciato le cose nella stessa maniera e hanno fatto bene ovviamente quindi abbiamo Pui Pui molto bene ma il discorso è che le spalle le vedo troppo strane troppo storte vedete ragazzi cioè non è che lo dico tanto per dire si nota tantissimo che il braccio destro è tutto storto non ho capito perché sia storto in quella maniera e anche l'altro non è che mi sembra proprio fenomenale quindi non so che sta succedendo qui perché questo personaggio appunto sebbene faccia parte solamente di un attacco speciale è conformato così col braccio spezzato non è bello da vedere vediamo quindi che cosa fa lancia un attacco sì ragazzi lancia un attacco contro Spopovich ma la cosa è strana perché nell'anime vediamo che Babidi fa esplodere praticamente Spopovich e poi Pui Pui lancia un attacco energetico come questo qui esattamente questo contro Yamu distruggendolo mentre in Dragon Ball Z Kakarot e nel manga a quanto pare è Pui Pui che va a eliminare questi personaggi e quindi Babidi non si muove perché se no se questa fosse stata la scena della storia sarebbe stato Babidi a farlo esplodere invece è Pui Pui che lancia l'attacco contro Spopovich quindi credo che questa sia parte della storia oppure potrebbe essere anche un combattimento normalissimo libero chissà e quindi le cose vanno diversamente comunque procediamo ok non ci fanno vedere Yacon non ci fanno vedere nulla di particolare tipo un altro attacco secondario con Yacon no e vediamo che cosa fa Babidi se interviene no si passa direttamente a Darbula fatto benissimo ragazzi qui con la faccia bella cazzuta da demone mamma mia quindi ok qui vediamo Gohan adulto ci viene presentato adesso Gohan adulto super Saiyan con gli abiti con questa skin insomma di Great Saiyaman preferisco più l'abito che ha sotto l'outfit quello tutto nero attillato aderente molto meglio quello e infatti lo vediamo poco più tardi quindi vediamo qui va a combattere contro Darbula ok lo stand per terra questa qui potrebbe essere una mossa speciale di Gohan che comprende delle combo ok l'unica cosa che non mi piace in questo frame sono i capelli di Gohan che sembrano tipo un casco di banane ok non so come avverrà il tutto nel gioco però non lo so ragazzi mi sembra il tutto strano in certi momenti i capelli sono strani non piacciono almeno a me non piacciono poi non so a voi ci sono ancora tipo di bug delle compenetrazioni delle cose da risolvere e credo che se le trascineranno fino all'ultimo quindi vediamo che succede c'è Babidi appunto che va a controllare credo nella storia principale il caro Vegeta facendolo diventare Magin Vegeta quindi fa questa cosa qui con gli occhi benissimo vedete ragazzi Magin Vegeta tra l'altro la qualità spettacolare qui adoro ok vediamo impazzisce di rabbia ragazzi mamma mia scatenatissimo qua è perfetto qua è perfetto guardate un po' l'eyeliner appunto attorno agli occhi nero la M di Magin il sudore addirittura appunto anche le varie venuze fatte abbastanza bene direi anche le luci ombre eccetera eccetera ci stanno quindi in questo caso non ho nulla da dire ma se noto robe particolari ragazzi che non mi piacciono ve lo dico subito vediamo che altro succede ok c'è il combattimento giustamente tra Magin Vegeta e Goku Super Saiyan 2 mentre poi Kaioshin e Gohan durante la storia stanno cercando in tutti i modi di non fare uscire Magin Buu e poi esce comunque e poi sappiamo che Magin Vegeta va da Magin Buu ad affrontarlo dopo aver steso Goku vediamo belli ragazzi combattimenti molto molto fluidi mi piacciono un sacco abbiamo questo Gohan con questa mossa qui spero ve la ricordiate praticamente diventa se non sbaglio Super Saiyan 2 in questo caso e lancia una Kamehameha potentissima contro la sfera che contiene Magin Buu per cercare di spazzarlo via ma in realtà la sposta soltanto quindi tanta roba comunque la scena anche se non riesce nell'intento la scena questa qui mi è sempre piaciuta e l'outfit soprattutto ci godo a vederlo dai vediamo ok quindi vedete fa questa Kamehameha con la bocca completamente aperta i dettagli sono assurdi e vediamo questo ciuffo veramente lunghissimo in questo caso e anche tutto il resto non sembra avere problemi con penetrazioni eccetera eccetera cioè il viso in questo caso è fatto benissimo e anche l'espressione rende bene e vediamo che sta facendo questa Kamehameha potentissima vediamo contro chi e non si vede ragazzi comunque vediamo subito Majin Buu Grasso contentissimo comparire lo avevamo già visto in precedenti trailer vediamo un po' com'è che combatte lui ok lo va a raggiungere a Gohan in modo spaventoso velocissimo cioè nel senso Gohan sappiamo che è davvero potentissimo in questo caso vedete tra l'altro il Super Saiyan 2 ha tutte le varie scossette attorno che ce lo indicano e lui appunto lo va a raggiungere velocemente spaventoso no quindi proprio come nell'anime la scena anche se vedo che in questo momento allora il pannolino è a posto il pannolino che è Majin Buu là sotto per quanto riguarda tipo il busto che lui ha lo vedo troppo schiacciato troppo strano compenetrato con la sua panza il che non va troppo bene vabbè vediamo ok quindi lui combatte così ragazzi con pugni e calci e magari delle panzate con il pannolino con la panza che lui ha con quei pantaloni strani e lo spazza via molto bene ok si passa già a Majin Vegeta contro Majin Buu Grasso e quindi questo sarà un bel combattimento non vedo l'ora poi di farlo ok vediamo che altro succede lui praticamente si toglie parte del suo corpo quindi dalla pancia e dal suo grasso dal suo corpo crea questa forma che poi utilizza per combattere me lo ricordo benissimo quindi ok poi qui fa questa faccia molto pericolosa ricordiamoci che quando Majin Buu Grasso fa questi occhi qui è pericolosissimo sta per fare qualcosa di assurdo ed è veramente incazzato ed è malvagio vediamo quindi lancia questo grasso colpisce Vegeta e poi che succede? ah lo va tipo com'è ad assorbire strano che non lo assorba poteva farlo però appunto vabbè nell'anime non va così però lo va a stritolare e poi gli va a dare un sacco di colpi quindi bellissima sta mossa molto divertente si va a sedere sopra abbiamo l'esplosione finale ragazzi che ovviamente ci doveva essere questa è la suprema di Majin Vegeta fighissima a livelli estremi con tutta la bomba atomica anche se prima avevo notato che non era troppo grande tutta l'esplosione tutto l'effetto e adesso vedremo meglio quindi vediamo vedete lui fa così con tutta l'animazione parla bellissimo qui mi è piaciuto un sacco tutto ciò ok si scatena vedete fa l'esplosione spazia via Majin Buu e appunto l'esplosione atomica non sembra essere così tanto grande forse sembra a me troppo piccola però anche in questo caso un'esplosione che dovrebbe essere molto più grande di questa viene resa anche questa slim da quello che sembra a me poi fatemi sapere la vostra comunque i colori mi piacciono il colore giallo dell'esplosione rende bene quindi fantastico Majin Buu viene spazzato via e che succede si passa ad un'altra scena si abbiamo Goku che diventa Super Saiyan 3 ragazzi anche se qui devo dire che il tutto non mi convince i capelli innanzitutto sono un po' scuri sono ombrati in questo caso il viso cioè le sopracciglia non mi piacciono perché non sono così quelle di Goku Super Saiyan 3 ad esempio su Dragon Ball Z Kakarot già è fatto meglio e probabilmente anche su Xenoverse 2 potrebbe essere fatto meglio e il ciuffo ci sta ma il viso proprio che non mi convince più di tanto non mi dà di Goku Super Saiyan 3 più di tanto ok? cioè sì gli somiglia ma non è lui è questo che voglio dire insomma e per quanto riguarda i muscoli sembra essere bello muscoloso sul petto bello pompato ma per quanto riguarda le braccia e il resto del corpo va visto se lo hanno pompato o meno o se è sempre slim come tante altre versioni di Goku che non va bene come cosa sembra essere un po' più muscoloso al momento in questo frame però dobbiamo vedere meglio ok procediamo va a combattere contro Majin Buu Grasso facendo le stesse mosse che faceva nell'anime lo riconosco subito perché mi è rimasto tanto impresso il discorso che lui tirava il codino e continuava a dargli i pugni come se fosse un pallone che tu tieni con una corda e gli dai i pugni quindi proprio a devastarlo a umiliarlo totalmente e lo sta facendo anche qui nel gioco hanno introdotto proprio questa sua mossa speciale combo non lo so ragazzi potrebbe essere una mossa speciale comunque sia il discorso è che il codino da dove parte da lì proprio dal punto in cui parte mi sembra piuttosto strano e vediamo anche che il mantello si compenetra con il viso di Majin Buu ok che questi combattimenti saranno frenetici molto veloci e magari si potrebbe anche non notare ma comunque vanno risolte queste cose qua non possono rimanere così e per quanto riguarda il paesaggio tutte queste varie isole con il mare al bacio ragazzi tutto perfetto mi piace un sacco lo stile realistico del mare delle rocce di tutte le varie isole in lontananza io adoro tutto ciò quindi perfetto non credo sia un nuovo scenario potrebbe esserlo però potrebbe essere lo stesso scenario visto nella saga di Cell quando Cell va a cercare di assorbire ad esempio C-18 no? in tutto quel periodo là siamo sulle isole e quindi potrebbe essere lo stesso scenario e non per forza un altro scenario dai andiamo avanti vediamo un po' che altri attacchi fa ah perfetto ragazzi classica mossa classica presa di Goku che prende il nemico e lo fa roteare in questo caso dal codino a Majin Buu grasso in questo caso Goku da dietro sembra fatto abbastanza bene il colore dei capelli magari doveva essere più chiaro più giallo chiaro e non dorato così scuro per quanto riguarda la muscolatura mi sembra non so forse un po' migliorata magari è stato un po' ingigantito Goku non si capisce bene da questo frame secondo me dovrebbero sempre non rendere i personaggi slim ma renderli più grossi questo è certo ve lo dico e questo rimane il mio pensiero ecco qui possiamo vedere chiaramente che Majin Buu grasso sta facendo la sua Kamehameha che ha copiato ovviamente da Goku di colore fucsia ovviamente ci ricordiamo che Majin Buu grasso e anche gli altri Majin Buu tipo Kid Buu sanno fare la Kamehameha rubata da Goku sempre perché non è che la sa fare lui così da solo ed è di colore fucsia me lo ricordo anche dagli altri giochi quindi ok a questo punto gli fa l'attacco vediamo però ragazzi vedete la Kamehameha è sempre piccina nonostante il personaggio che sta lanciando la Kamehameha è un personaggio potente la Kamehameha è stretta è un tubo proprio un tubo lineare preciso è solo un po' più grossa all'inizio e alla fine dove colpisce l'avversario ma nel centro è proprio piccola ok non lo so magari potrebbe essere ci ho pensato adesso che appunto non mettono gli attacchi energetici troppo grandi che coprono una vasta area dello schermo perché se no il nemico magari essendo abile veloce eccetera eccetera ti viene ad attaccare e non te ne accorgi perché c'è ancora tutta la parte dell'attacco energetico davanti potrebbe essere questo uno dei motivi ok dato che questo è un gioco molto competitivo ecco Goku riceve l'attacco ma ovviamente non si sta lì a prenderselo anzi lo devia lo lancia via senza problemi vediamo lo lancia ok qui ragazzi abbiamo Goku che sta per fare una suprema il tempo è cambiato è tutto scuro bellissimo e vediamo Goku con un altro tipo di colori perché essendo che sta per fare una suprema importantissima i colori diventano molto molto più sgargianti lui diventa molto più luminoso e questi sono i colori giusti del Super Saiyan 3 ma si sbloccano solamente quando fai una suprema a quanto pare perché sembra che stia per fare una suprema la trasformazione era già attiva non è che ha usato il Super Saiyan 3 dopo no era già trasformato e sta usando una suprema e vediamo appunto che i colori in questo caso sono giusti sia i colori dell'outfit e sia i colori dei capelli ok l'estetica non cambia del viso non credo proprio quindi rimane il viso di Goku sempre brutto però almeno i colori sono azzeccati questo mi fa piacere vediamo che succede che attacco fa ah non ce lo fanno vedere ragazzi quindi appunto si passa ad un'altra scena in cui c'è Majin Buu Grasso che sta combattendo contro Evil Buu mi piace il fatto che in questa battaglia ci sia il cielo già tutto scuro come se stia per accadere qualcosa di molto cupo molto dark il che è vero e vediamo un po' combattono ok vediamo un po' ragazzi fa tipo l'esplosione atomica da quello che ricordo mi sa che si chiama così vediamo ok quindi c'è Evil Buu che sta di fronte a lui e si sta caricando al massimo e poi fa un qualche attacco vediamo un po' che cosa combina ok bellissimo ragazzi questa è una scena proprio dell'anime presa dall'anime mi ricordo che torceva la testa in questa maniera si girava in questa maniera e poi andava ad eliminare uno degli uomini che aveva attaccato il cane me lo ricordo benissimo quindi Majin Buu Evil Majin Buu malvagio grigio ok vediamo che fa fa questo attacco qui va a colpire subito Majin Buu Grasso con un pugno e poi ragazzi qui è la roba che non mi piace perché me lo sarei aspettato in tutt'altro modo rispetto a quello che stiamo vedendo cioè il viso di Grey Buu chiamiamolo così non mi sembra esattamente questo la bocca non mi convince gli occhi sono quelli le orecchie magari un po' più piccole non così grandi il fatto che è magro ok lo sappiamo ma la bocca non rende bene è troppo forse in alto non lo so non lo so in questo caso non mi convince appieno cioè è fatto abbastanza bene ma non mi convince appieno e vedo che comunque c'è un braccio qui compenetrato e non me lo sto inventando con parte del suo abito parte del suo gilet che c'ha sotto ok vabbè vediamo che fa lui dice muori dai e appunto ragazzi lo vediamo che fa questo attacco energetico come quello che fa a uno dei tizi che aveva sparato il cane nell'anime almeno nell'anime andava così quindi questo è uno degli attacchi che ha forse un attacco supremo potrebbe essere chissà quindi lo spazza via Majin Buu mamma mia ragazzi potentissimo si passa subito a Super Buu senza farci vedere parte della storia in cui Majin Buu grasso viene assorbito e vabbè qui Super Buu è fatto davvero bene ragazzi muscoloso al punto giusto magari doveva essere ancora più alto ora non so quanto sarà alto nel gioco ma mi ricordo che nell'anime era tanto tanto alto più alto di Junior molto più alto e imponente di Junior e di Cell e di tutte le forme di Cell quindi tanta roba ora non so qui nel gioco se è stato fatto piuttosto slim spero di no quindi Super Buu ci viene ufficialmente presentato indica con la sua intro il personaggio l'avversario bene vediamo che cosa combina oh subito ragazzi fa tipo la pioggia del male dovrebbe essere quella sì perché è l'unica mossa in cui alza la mano così in aria e si scatena vedete sì va a colpire Gotenks sento la voce di Gotenks eccolo qui ragazzi Gotenks Super Saiyan 3 fatto bene dai possiamo dire fatto bene non vedo compenetrazioni stavolta e non ci fanno vedere Gotenks ad esempio Super Saiyan direttamente Super Saiyan 3 già lo conosciamo non viene presentato qui in questo trailer di certo vediamo che cavolo fa le ciambelle galattiche no una raffica energetica semplicemente che va a colpire Super Buu abbiamo Gohan Ultimate fatto molto bene ragazzi muscoloso insomma insomma ma anche lui è abbastanza slim dovrebbe essere molto più muscoloso di così per rispettare quello che succede nell'anime però a quanto pare proprio i personaggi non li vogliono fare più grossi proprio non ce lo chiedete che non lo facciamo non ci va questa sembra la risposta ok vediamo lui dice I'm gonna kill you quindi ti ucciderò molto serio molto fico e il discorso è ragazzi che i colori sono troppo chiari mi ricordo che Gohan nella saga di Majin Buu quando combatte contro Super Buu ha il colore dell'outfit arancione la parte superiore il blu è giusto la parte superiore è molto più scura e in questo caso è molto molto chiaro questo arancione non ci sta più di tanto e se avete notato Gohan adulto in tutte le sue forme che sia Super Saiyan che sia forma base che sia Super Saiyan 2 eccetera eccetera ha lo stesso viso gli stessi occhi più o meno di Goku quando è ragazzino sembra un po' di meno sta cosa qua però per quanto riguarda Goku e Gohan ok che sono padre e figlio ma non devi farci lo stesso viso identico uguale ok perché se ci pensate questo qui potrebbe essere tranquillamente Goku se gli cambi semplicemente la chioma i capelli ok questo intendo quindi fateci caso il viso è quello fate voi un'analisi ve ne renderete conto dai vediamo ok quindi stessa mossa di Goku lo prende e gli fa fare questo giro e poi lo lancia via quindi perfetto Ultimate Gone ci viene scritto qui ok perfetto poi ragazzi scatenatissimo con delle combo pugni calci e poi va subito con una bella Kamehameha potentissima che sarà una suprema immagino la cosa che non mi piace è che l'effetto appunto della Kamehameha vedete dei raggi passa attraverso la testa non è che sia bello da vedere e anche la nuca insomma il collo di Gohan posteriore si compenetra un po' con la testa l'orecchio vedete è tutta illuminata quella parte vabbè ci può anche stare per l'effetto della luce però ecco non si vede per bene il collo si vede il trapezio dietro e basta cioè non si vede neanche il collo di Gohan è tutto collegato non lo so magari sarà un'impressione mia però quello che vedo in questo momento non mi piace poi mi fate sapere la vostra ok scatenatissimo Super Buu ragazzi incazzatissimo fa tipo l'esplosione non mi ricordo come si chiama ma fa un'esplosione assurda mi sa che Majin Buu è fissato con le esplosioni e fa questa specie di turbine attorno a lui vedete questo turbine di di energia e poi credo che faccia un'esplosione incredibile come un pazzo come ad esempio in tutti gli altri giochi come in Dragon Ball Xenoverse 2 in Dragon Ball Z Takakaroth nella storia lo fa quindi bene ok vediamo che altro fa oddio ragazzi qui il viso è identico a quella scena in cui fa questa esplosione nell'anime cioè guardatelo fatto benissimo adoro ora non so se Super Buu come fisico verrà realizzato bene o meno sarà abbastanza alto abbastanza muscoloso eccetera eccetera però a giudicare solamente questo frame per quanto riguarda questa scena di un combattimento della storia principale potrebbe essere della storia principale tranquillamente mi sembra perfetto ok poi il resto lo vediamo dopo come sarà fatto però in questo frame a me sembra davvero perfetto la faccia è proprio quella lì che fa durante questa mossa nell'anime fantastico adoro dai vediamo ok quindi fa l'esplosione gigantesca ragazzi molto più grande di quella di Vegeta che abbiamo visto prima ok si passa si passa ad un'altra scena in cui Super Buu va ad assorbire Gotenks e Junior credo vediamo assorbe solamente Gotenks non fanno vedere Junior quindi lui sta in aria così ingloba Gotenks e se lo va ad assorbire subitissimo vedete mi piace molto l'animazione quando fa tutta quella nuvola rosa attorno al corpo e poi si trasforma improvvisamente quindi Super Buu Gotenks absorbed così viene chiamato qui ragazzi ovviamente è il caro Butenks come sappiamo il viso qui sembra abbastanza accattivante molto bene vediamo che altro fa ecco questa è la sua posa ce la ricordiamo benissimo in questo caso fatto divinamente con il codino lunghissimo con la muscolatura sempre quella di Super Buu del Super Buu precedente quello classico per quanto riguarda invece le braccia sono troppo slim non dovrebbero essere così tanto piccole ma un po' più muscolose almeno cavolo per il resto non noto compenetrazioni degli abiti robe strane il viso mi sembra quello perfetto ok qui va ad utilizzare una delle sue mosse classiche rubata a Gotenks perché lo ha assorbito ovvero le ciambelle galattiche con cui va a stringere Gohan quindi perfetto vediamo un attimino poi stringe e spam e scoppia tutto quanto anche se l'esplosione mi sembra piuttosto piccina cioè molto fumosa ma poco effetto dell'esplosione cioè vedo tanto fumo ma poca roba di esplosione forse perché l'attacco non era così tanto devastante ok qui abbiamo la presentazione di Buan la forma più potente di Majin Bu e deve essere chiaro questo perché ha assorbito tutti quei guerrieri potentissimi qui viene detto Super Bu Gohan Absorbed quindi penso che si chiamerà Super Bu Gohan Assorbito semplicemente in game nel gioco vediamo se c'è l'animazione quando lo assorbe dai rendiamoci conto no ragazzi no non c'è l'animazione non ce lo fanno vedere in questo caso ma abbiamo appunto Super Bu con questa sua posa peccato che non sia fatto proprio perfettamente ad esempio il braccio lì lo vedo un po' storto il muscolo il bicipite lo vedo troppo piccino non so che sta succedendo ma appunto in questo caso questo Super Bu è troppo magro ok non ci siamo andrebbe gonfiato molto di più molto più pompato per quanto riguarda il viso sì direi che ci siamo è quello lì il codino ancora più grosso ancora più imponente sulla testa e gli abiti sono questi qua anche se in questo caso l'outfit dovrebbe essere più scuro l'arancione molto più scuro andiamo avanti ok quindi combatte contro Vegeta Super Saiyan 2 da quello che vedo c'è un momento in cui mi ricordo questo Super Bu ammazza di botte Vegeta certo come lo ricordo prima dalla fusione ok quindi calci, pugni anche contro Goku Super Saiyan Super Saiyan 2 ok il codino ragazzi qui possiamo vedere che è fatto molto bene e possiamo notare quanto è lungo sto cavolo di codino il più lungo che mai infatti questa forma di Super Bu ha il codino più lungo di tutti poi quando diventa Kid Bu diventa cortissimo lo perde diventa quello normale però ecco questo codino così grande così imponente lo rende un personaggio davvero particolare ecco quindi vediamo lo spazza via nella roccia e si passa ad un'altra scena abbiamo Goku base che sta per fare la fusione sta convincendo Vegeta a fare la fusione che in quel momento non la voleva fare me lo ricordo molto bene vediamo si mettono uno accanto all'altro e appunto Goku lancia il potare a Vegeta e se lo mette veloce all'orecchio e fanno la fusione vediamo la scena eccolo lo fa se lo mette velocemente ed ecco qua ragazzi la fusione subito Vegeta forma base davvero capellone qui guardate quanti capelli sparati che ha molto bene in questo caso Vegeta sembra essere muscoloso appunto giusto quindi né troppo magro né troppo pompato almeno questo braccio qui sembra essere davvero cazzuto l'altro braccio un po' meno si vede molto meno e non si riesce bene a capire e per quanto riguarda l'outfit sembra che le spalline qui sopra escano troppo da fuori quelle di colore blu diciamo la parte dell'abito che sta sulle spalle io le chiamo le spalline per fare prima e escono troppo da fuori vedete non dovrebbe essere in teoria così dai procediamo vediamo un po' diventa subito Super Saiyan scatenatissimo bellissimo ragazzi qui questo è il modo proprio in cui si trasforma nell'anime con questa posa qui intendo la cosa che mi piace tantissimo di Vegeta è che ha tanti capelli è molto dotato di capelli e quindi rende molto bene su sto personaggio non lo so perché magari su altri personaggi potrebbe sembrare strano su di lui ci sta tantissimo non lo so perché comunque il busto sembra essere abbastanza imponente le braccia tese così sembrano essere muscolose al punto giusto le gambe magari un po' troppo slim per il resto tutto ok non noto robe strane andiamo avanti vediamo qui inizia a malmenare di brutto Buan mamma mia ragazzi e qui lancia uno dei suoi attacchi speciali ovvero il Big Bang Attack preso ovviamente da Vegeta quindi lui lo lancia in questa maniera lo lancia e si crea questo raggio non è che lancia la sfera che va a colpire l'avversario qui invece viene prima creata la sfera vicino alla mano e poi si allunga come un raggio come se fosse una kamehameha quindi perfetto vediamo ragazzi ovviamente no non ci fanno vedere la distruzione che causa ma perché passate un'altra scena subitissimo abbiamo subito Kid Bu va bene vediamo che succede Kid Bu ragazzi ci viene presentato e già qui lui si inizia a scatenare perché è davvero un monellaccio e non sta mai fermo è davvero pericoloso questo Majin Bu qui in questo caso lo vediamo abbastanza slim perché lui ha la forma di un bambino sostanzialmente per quello si chiama Kid Bu è la forma bambina di Majin Bu ed è normale che sia slim in questo caso non si noterebbe la differenza se lo fai troppo slim o appunto in modo giusto abbastanza pompato perché è già un bambino è già slim quindi non si nota più di tanto su altri personaggi si nota molto di più tipo su guerrieri Z vediamo un po' che cavolo combina inizia a scatenarsi inizia a fare la palla appunto inizia a chiudersi come una palla e a colpirlo velocemente al caro Goku non facendoli capire più niente quindi molto pericoloso molto devastante come mossa vediamo che altro combina lancia una Kamehameha ragazzi che è sempre un raggio si vede chiaramente cioè è sempre grande nel punto in cui parte la mossa è nel punto di arrivo ma nel centro è sempre un tubo cioè non serve neanche più che ne parli di sta cosa perché in ogni trailer è sempre così quindi immagino che sarà una cosa lasciata così nel gioco che purtroppo mi farà storcere il naso ma se ci devo giocare me la devo far piacere comunque tra l'altro attenzione siamo nello scenario del pianeta dei Kaioshin ovviamente sia nella storia lo vedremo ma anche penso sarà selezionabile nei vari scenari in cui combattere quando faremo delle battaglie libere molto bene vediamo che cavolo fa Goku lancia via l'attacco no è stato tipo colpito da quello che ho visto e poi appunto rilancia una Kamehameha a sua volta un attacco speciale non supremo da quello che sembra vediamo mamma mia ragazzi Vegeta che lancia una raffica energetica Vegeta Super Saiyan 2 contro Kid Buu ci ricordiamo che succede tutto ciò dai vediamo ok Kid Buu si inizia a divertire ragazzi allunga le braccia e colpisce appunto un po' come aveva fatto Goku tenendo il codino di Majin Buu Grasso e dandogli pugni stessa cosa fa Kid Buu al contrario allungando lui appunto la mano e dando un sacco di pugni con l'altra quindi assurdo bellissimi tra l'altro i dettagli dell'erba guardate un po' ragazzi sembra realistica guardarla così e Vegeta ci sta cascando sopra dai vediamo che altro succede ok qui abbiamo Mr. Satan che c'era stato già presentato realizzato bene qui molto realistico e si potrà combattere anche usando lui sia come personaggio ovviamente normale ma anche nella storia penso potrà fare qualcosa si potrà utilizzare magari sarebbe interessante perfetto andiamo avanti qui abbiamo ragazzi Goku che sta per lanciare la Genkidama contro Kid Buu quindi dovrebbe essere come ho detto Goku di Fine Z Goku End si dovrebbe chiamare Goku Fine che appunto può fare questa Genkidama come mossa suprema quindi perfetto vediamo bellissimo ragazzi l'effetto della Genkidama mi piace quasi molto di più dell'effetto della Genkidama in Dragon Ball Z Kakarot e io adoro le sfere di questo tipo giganti nei giochi anche in Dragon Ball Z Kakarot soprattutto che ha degli effetti davvero bellissimi da guardare questo gioco supera tutto quanto dai vediamo la lancia ok si trasforma in Super Saiyan spinge tutto quanto fa la sua posa e lancia ragazzi tutto quanto ed esce la scritta Dragon Ball Spark in zero quindi adesso usciranno tutti i vari esagoni che si sbloccano quindi vediamo un attimino diamo un'occhiata per bene i nostri cari esagoni che si sbloccano diamo un'occhiata già qui ne conto 5 Evil Buu Super Buu Buu Tanks Buan e Kid Buu vediamo che altro stiamo attenti ok qui si sbloccano Babidi e due Gohan Gohan praticamente Super Saiyan normale con l'outfit di Great Saiyaman e Great Saiyaman vero e proprio con il suo casco ma c'è anche la skin secondaria con la bandana e gli occhiali lo sappiamo vediamo che altro e si sblocca anche Ultimate Gohan a quanto vedo sono 9 personaggi 5 forme di Majin Buu presentate Babidi e 3 nuovi Gohan Great Saiyaman Gohan Super Saiyan e Gohan Ultimate non vedo altri personaggi che si sono sbloccati ad esempio Darbull e Spopovich erano stati già presentati Veget tutti i vari Vegeta Goku che abbiamo già visto già erano stati presentati ecco perché non sono comparsi quindi perfetto ed eccoci tornati a noi allora il trailer lo abbiamo visto vi ho detto già le mie impressioni iniziali lo abbiamo analizzato durante l'analisi ragazzi ho visto tutto quanto e vi ho detto un po' quello che penso quindi quello che mi piace quello che non mi piace quello che mi convince quello che non mi convince quello che avrei voluto o non avrei voluto quindi vi ho detto parecchia parecchia roba ovviamente questo trailer ci tengo a specificarlo non mi ha deluso affatto anzi mi ha reso parecchio felice anche per delle sorprese tipo il fatto che hanno introdotto come ho detto Babidi e Devil Buu e tutte le altre forme di Majin Buu ben fatte quindi sono davvero contento hanno anche aggiunto le varie forme di Gohan che mancavano quindi ragazzi praticamente siamo agli sgoccioli secondo me arriveranno ancora altri trailer e fino a quando uscirà il gioco penso che potrebbero uscire non lo so due o tre trailer probabilmente perché adesso inizieranno a spingere un po' di più verso l'uscita quasi sotto l'uscita del gioco penso che uscirà davvero un casino un fottio di roba e probabilmente tutto quel roster che non è un roster ma appunto tutta quella griglia con i vari esagoni si potrebbe riempire fino a quando arriviamo appunto all'uscita del gioco io me lo aspetto almeno se no che senso a far vedere tutti questi personaggi se poi alla fine lasciano tutta quella griglia con dei pezzi vuoti non avrebbe senso penso che alla fine avremo un epilogo con tutta quella griglia piena di tutti i vari personaggi che ci sono nel gioco a questo punto questo video è giunto al termine mi raccomando ragazzi fatemi sapere un po' che ne pensate di questo trailer fatemi sapere che ne pensate appunto della mia analisi se siete d'accordo o in disaccordo con quello che ho detto se avete notato voi delle cose che vi piacciono tantissimo che non vi piacciono o appunto se avete notato qualcosa che io non ho notato insomma fatemi sapere tutto quello che volete io spero che questo video vi sia piaciuto se volete lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò grazie a tutti